Montemurlo Green è la prima comunità energetica rinnovabile del territorio pratese nata per far fronte al caro energia, coinvolgendo famiglie e imprese. Le prime immettono nel sistema l'energia, le seconde l'acquista. Un meccanismo virtuoso che prevede vantaggi per entrambi. L'atto di costituzione è stato firmato dal sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, con la partecipazione di energie e comunità. Le comunità energetiche che sono sicuramente un modo per andare incontro alla transizione ecologica, ma sono allo stesso modo anche un modo per dare dei benefici economici alle imprese e alle famiglie del territorio che in questo momento purtroppo stanno subendo un rincaro del costo dell'energia elettrica molto importante. Il distretto produttivo montemurlese, composto in prevalenza da media imprese industriale, è particolarmente idoneo per accogliere una comunità energetica rinnovabile. Inoltre, le utenze private e industriali sono collegate dalla stessa rete, che sarà sfruttata anche dalla stessa comunità energetica. Le imprese possono anche solo decidere di mettere a disposizione i tetti dei propri stabilimenti produttivi, sui quali il global partner della comunità provvederà alla creazione dell'impianto. Il comune di Montemurlo sarà il primo soggetto di promotore della comunità energetica con le imprese del territorio e con i cittadini. Farà la propria parte sia come consumatore, conferendo le proprie utenze all'interno della comunità e sfruttando quindi quella che sarà anche l'energia green prodotta dalla comunità stessa e in una seconda fase potrà anche sboggere il ruolo di produttore. Montemurlo Green è un progetto condiviso anche con la Camera di Commercio di Prato e Pistoia.